eccoci qui ragazzi buongiorno a tutti voi buon giovedì e ci siamo ci siamo stasera c'è il ritorno di della finale di europa league si va all'everkusen e ci si gioca la stagione praticamente stasera ci ci gioca la stagione perché la finale di europa league sarebbe veramente un grande traguardo per la roma giocarsi una seconda finale europea consecutiva vorrebbe dire veramente tanta tanta roba specialmente perché l'europa league è nettamente superiore alla conferenza come competizione si alzerebbe l'asticella ancora di più giocarsi una finale di europa league insomma per la roma dopo la conference sarebbe un bellissimo traguardo europa league che era la vecchia coppa uefa e la roma sono 32 anni che non arriva in finale perché l'ultima volta nel 91 ci arrivò contro l'inter se proprio vi ricordate quando ancora c'era la doppia finale e mi ricordo ragazzi mi ricordo che in quell'occasione all'andata perdemmo 2 a 0 non con qualche polemica che riguarda dall'inter era molto dubbio e al ritorno a roma fece una partita strepitosa di grande cuore vincemmo 1 a 0 con gol di rizzitelli all'ottantesimo ma la roma avrebbe stra stra meritato di vincere la quella coppa purtroppo non ci siamo riusciti e la cosa che poi ti fa capire come è il tifoso romanista e come si attacca a certi giocatori il fatto volle che il giorno dopo la finale dell'olimpico di ritorno ci fu l'addio al calcio di bruno conti e c'era più gente all'addio di bruno conti che alla finale di ritorno di coppa uef questo me lo ricordo benissimo va bene ragazzi dopo questo parentesi a marcord parliamo della formazione murigno era in conferenza stampa ha detto che sono recuperati sia small link e di bala che non so se sia una pretattica o se effettivamente tre giocatori si sono recuperati al cento per cento io non credo ancora ragazzi non credo è vero che sono tornati in gruppo ma non credo che abbiano anche la condizione fisica aveva affrontato a 90 minuti io sono convinto che la roma partirà con gli stessi dell'andata vale a dire con lui quadrissimo in porta con cristante mancini i pane se in difesa con selic e spinazzola al centro sulle fasce e con un centrocampo un po più fonda 3 con matice versi dice basso e bove e guainaldo mezzali e con pellegrini a girare da trequartista per innescare abram o belotti uno dei due poi vedremo se murigno ci sorprenderà e se effettivamente di bala e small in che soprattutto potranno essere subito dall'inizio in partita ma non credo ragazzi non credo affatto perché sarebbe veramente un rischio farli entrare così una partita così intensa difficile faticosa dopo gli infortuni che hanno avuto perché insomma e l'infortunio di small link era abbastanza serio e di bala veniva da due infortuni sia al resimentimento dell'adduttore sia alla botta alla caviglia quindi la vedo dura falli esordi subito dal primo minuto però insomma la squadra ragazzi ha dimostrato all'andata di di potersela giocare anche con quella formazione quella cosa che dobbiamo assolutamente evitare stasera è ripetere lo stesso approccio dei primi 15 minuti che abbiamo avuto all'olimpico la settimana scorsa perché è stato un inizio veramente difficile per la roma con l'everkusen che ha avuto due nette occasioni da gol nei primi 10 minuti e fortunatamente non sono andati in vantaggio ecco dobbiamo evitare assolutamente di iniziare la partita sotto tono come abbiamo fatto all'andata è una partita difficile chiaramente perché l'everkusen ripete un'ottima squadra allenata da un ottimo allenatore quindi c'è un mix di tecnica e forza fisica poi ripeto loro hanno mollato il campionato praticamente già da tempo fanno giocare sempre le riserve noi invece siamo sempre costretti a far giocare le stessi per gli infortuni quindi le condizioni fisiche loro stanno sicuramente un po' meglio giocano in casa è vero che è una squadra che gioca meglio fuori casa perché sono grandi contropedisti però anche in casa possono essere molto pericolosi hanno tanta qualità dalla centrocampo in su e possono far male all'andata comunque hanno avuto tre occasioni da gol nitide per cui bisogna stare molto molto attenti nella gestione e nell'approccio alla partita perché bisogna assolutamente iniziarla bene concentrati cattivi determinati e mettere subito intensità cattiveria in campo perché altrimenti i tedeschi te massacrano partita difficile ma anche loro hanno i loro problemi perché se non sbaglio un paio di giocatori si sono infortunati nell'ultima di campionato e soprattutto anche loro in difesa ci hanno qualche problemino insomma l'abbiamo visto anche all'andata dove non è che sono impenetrabili è una squadra tosta comunque ragazzi ce la dobbiamo giocare veramente col coltello tra i denti stasera non sarà semplice sarà una partita difficile però la Roma ha dimostrato quest'anno che nelle partite che contano quelle decisive ha sempre fatto la differenza il carattere l'intensità la cattiveria la determinazione nonostante le assenze se poi avremmo la sorpresa di vedere magari anche un dibale uno small link in campo insomma siamo tutti più contenti ma ripeto secondo me entrerà in campo la stessa formazione dell'andata e poi magari nel secondo tempo potremmo vedere sicuramente di bala magari il sharawi o anche small link partita alle 21 ragazzi se non sbaglio viene trasmessa dalla Rai forse non ricordo bene o da TV8 e niente ragazzi ci abbiamo questo appuntamento con la storia speriamo di coglierla comunque vada sono sicuro che la Roma qualunque risultato ci sia stasera sarà tutto in campo quindi sosteniamo la squadra tipiamo la squadra e speriamo in un risultato positivo che ci porti alla finale di Budapest se non ricordo male ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate del video iscrivetevi al canale tanti like commentate il video della partita lo farò domani mattina e quindi ci aggiorniamo a domani e speriamo di festeggiare insieme forza forza Roma sempre e comunque ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti